L'ambiguità del risorgimento, perché è stato un processo ambito, il risorgimento vero, il risorgimento raccontato nelle scuole, sono due cose profondamente diverse. C'è un fatto. È più interessante il risorgimento vero, è più controverso, ci sono più anime, vedi i conflitti, vedi alcuni aspetti della cultura dell'elite italiana, delle classi dirigenti che poi conosciamo adesso, 150 o 170 anni dopo. È più interessante, anche 200 se volete. L'idea, il fatto per esempio, ecco un altro, uno dei libri che trovo più belli su questo, che ho consigliato da anni a tutti, è La forza del destino, The Force of Destiny, or By Force of Destiny, The Force of Destiny, che è di questo storico inglese specialista sull'Italia, ma non mi ricordo niente. Christopher Duggan, suggeriscono... E poi che lo sia di origine irlandese, ma non importa. È anche tradotto in Italia per una volta rapidamente dalla terza. Un ottimo libro. È un ottimo libro perché su questo, visto che Banti ed altri storici italiani di risorgimento concordano, la radice, il seme dell'idea di risorgimento italiano, di costruzione italiana, è Napoleone, con la Repubblica Cisalpina e via andando, che crea grande. Sì, Christopher Duggan, thank you. È molto più interessante il risorgimento vero di quello raccontato. Sul risorgimento raccontato, purtroppo, la Repubblica ha costruito la sua identità, che è anche un segno di debolezza. Forse le divisioni fra i costituenti, la necessità di trovare degli strumenti di unità, li ha portati a leggere e a vendere un'immagine del risorgimento, della sua differenza, della continuità, risorgimento, resistenza e dell'anomalia fascista. Ed è una lettura antistorica che, purtroppo, fonda lo spirito patriottico della Repubblica su basi molto deboli, perché false. Perché false. Questo è il problema. Prestoricamente false. E gli effetti si vedono alla distanza. Perché se voi pensate alle radici culturali di praticamente tutta la destra italiana, che è antiresistenziale. D'accordo. Mentre è totalmente risorgimentale, fascista della prima ora, mettiamolo così, se volete chiamarlo fascista sociale, ecco. Vedete la contraddizione di venire fuori. Ed è profonda. Ed è profonda e la si vede. Per cui Salvini è percepito come corpo estraneo da chi, dal Quirinale e Paraggi, legge questa continuità, mentre chi sta con Salvini, che è Salvini, con Berlusconi, con la Meloni, che piaccia o meno, almeno la metà dell'elettorato italiano, probabilmente più della metà, vede come corpi estranei gli altri. E questa è una racerazione profonda, la Costituzione tedesca, la Costituzione, questo tipo di operazione, la nuova Repubblica tedesca non l'ha fatto questo errore. e non è che quelli del Partito Socialdemocratico tedesco non vedo CDU e CSU come corpi estranei e viceversa, si riconoscono nella Costituzione. Forse AFD è un corpo estraneo, vedremo, ma al momento è per 70 anni, così non è stato. Ecco, nel libro di Banti, credo, adesso non ricordo quale perché appunto non ho letto i tre rapidissimamente, però leggeteli, o chi è interessato, c'è tutta una parte bellissima che mi ha molto fatto sorridere, perché chi mi conosce lo sa, io il libro cuore lo odio. Sì, è terrificante. Mi sembra l'essenza del peggio, e lui c'è un pezzo dei capitoli bellissimi nell'analisi di cuore, del ruolo di cuore nella costruzione di un'ideologia, che poi è l'ideologia popolare del fascismo. Sì, sì, noto una cosa, noto una cosa. Per ritenere olio di ricino, è una certa visione di ciò che è buono, di chi è l'eroe, del ruolo dell'italiano, eccetera, eccetera, eccetera. Noto una cosa, il libro cuore rimane durante tutta l'Italia liberale, durante tutto il fascismo, e arriva il momento in cui viene contestato in Italia, e quando Umberto Eco scrive l'elogio del Franti. Non so se te lo ripare, si chiama l'elogio del Franti. Che è la contestazione in cui lui contesta tutti i punti del coso. Ora, la premessa è questa, io credo che... Allora, chi non ha letto il libro cuore sappia che questo è il cattivo. Il fascismo non riesce a trovare niente nel libro cuore che lo faccia diventare un libro da censurare, da buttare nel cesso. Sì, è tutto dentro, c'è un libro di eroismi nazionali, cioè la cultura fondamentale del regime fascista che fece gli italiani. Vi ricordate la battuta in Danze? L'Italia è fatta, bisogna fare gli italiani. C'è questa continuità. La prima guerra mondiale, venne di fatto, noi entrammo nella prima guerra mondiale, per fare gli italiani in un bagno di sangue. Dovete andare a leggere i testi del tempo. E la continuità fra la vittoria tradita, gli arditi e la nascita del movimento fascista è totale, che è lì. La vittoria tradita è la dichiarazione che il sogno risorgimentale è stato tradito. Se si è letta la storia italiana su qualche manuale edulcorato di terza media, o anche di terza superiore, quinta superiore, in cui ti raccontano che il fascismo sorse all'improvviso il più perché c'erano corpo estraneo alla società, alla cultura italiana, perché c'erano degli agrari cattivi e quattro industriali che non volevano farsi occupare le fabbriche. Ebbè, ciò avete letto male? Ora, si può discutere sul livello di continuità? Certamente ci sono fortissimi elementi di continuità fra quello che era il fascismo come ideologia, come approccio generale al mondo, se vogliamo, e il risorgimento. Ci sono elementi di novità nel fascismo? Assolutamente sì. Però il punto è, questo è un po' il grosso problema che ha l'Italia. L'Italia non si è ancora riuscita a fare un esame di conscienza rispetto alla propria storia perché se guarda veramente a cos'è il fascismo, secondo me, rischia di dover guardare anche a cos'è il risorgimento e non ha voglia di fare veramente questa operazione perché dovrebbe rinnegare troppe cose. Infatti, uno degli unici momenti in cui si è riuscita a fare un po' questa operazione è appunto durante il 68 perché il 68 doveva contestare tutto e quindi non aveva un problema anche a contestare la visione risorgimentale dell'Italia. Ma nell'epoca nostra, dove c'è parecchia più tendenza a voler riesaltare l'Italia, l'unità anche per ragioni di natura prettamente politica, ovviamente la sinistra non è mai stata risorgimentale in Italia. Diciamo la sinistra post-coso, non è che è stata risorgimentale. È diventata risorgimentale perché c'aveva la Lega. La Lega doveva contestare il risorgimento, la sinistra non ha un'idea ma è sempre contro qualcosa. Quindi, siccome la Lega era l'avversario politico, è diventata improvvisamente risorgimentale, è diventata tutta a favore dell'unità d'Italia, eccetera. Però, come posso dire, se tu vuoi fare l'analisi vera di qual è il problema dell'Italia, del problema del fascismo, inevitabilmente vai a vedere a come era stata fatta l'unità d'Italia, quali erano i principi fondanti che ci stavano dietro. Questo, secondo me, siamo ancora lontani dal poterlo fare. Grazie a tutti.